Nel celebre show televisivo Grande Fratello, due concorrenti stanno già facendo i conti con la finale. Beatrice Luzzi, la cui presenza è nota da settimane, e Rosie Chin, recentemente nominata, si avvicinano alla fine del gioco. Anche se la serata culminante, quella che proclamerà il successore del premio di questa stagione estesa del programma, è ancora a venire, i fan sono in trepidante attesa. Il nome del vincitore non è più un segreto. Ecco perché. Abbiamo sentito di recente le notizie sulla data del gran finale direttamente da Cesara Buonamici, che ha parlato poco prima di un'altra trasmissione televisiva. E quest'anno c'è qualcosa di speciale. Per la prima volta, i partecipanti al Grande Fratello celebreranno all'interno della casa non solo il Natale ma anche le vacanze di Pasqua, con la puntata conclusiva prevista per il 4 aprile, come confermato da un noto commentatore del programma. Fiordaliso sconvolge tutti. Rivela il vincitore del Grande Fratello e spiega perché. Chi vince il GF? Le previsioni di Fiordaliso. Quest'anno la Pasqua accade il 31 marzo. Il giorno dopo ci sarà la Pasquetta. E si prevede che il reality non andrà in onda in quella data. Per poi concludere con il finale a breve termine. Ma la domanda rimane. Chi sarà il vincitore? Fiordaliso. Una delle figure di spicco di questa stagione del Grande Fratello. Non ha alcun dubbio al riguardo. In una recente intervista concessa al giornale Chi. La cantante ha confessato che. Beatrice vincerà sicuramente e se lo merita. Fiordaliso vede in Beatrice un esempio di resistenza. Una donna che non ha ceduto di fronte alle difficoltà. Beatrice rappresenta tutte quelle donne che non hanno raggiunto i loro obiettivi. Quelle che non sono più giovanissime e che cercano una seconda opportunità. Si è anche espressa su un altro tema delicato. È un peccato che alcune concorrenti forti non siano riconosciute come tali dal pubblico. Prendendo l'esempio di Anita. Che. Nonostante sia apprezzata da Fiordaliso. Viene criticata per la sua bellezza e giovinezza. Caratteristiche che prima erano viste come vantaggiose ma ora sembrano essere diventate un ostacolo. Con queste parole. Fiordaliso ci lascia pensierosi sulle dinamiche del giudizio popolare e sull'esito finale del gioco. Resta da vedere se le sue previsioni si avvereranno.